Abbiamo ascoltato numeri, riflessioni, storie e soprattutto l'importanza che il volontariato ha non soltanto per gli addetti ai lavori, ma per la società intera. E questo lo condivido con i due nuovi ospiti che ci hanno nel frattempo raggiunto che rappresentano entrambi un'iniziativa di cui ci diranno gli stati generali della solidarietà ma hanno anche esperienze diverse. Raffaella Chiodo fa parte di UISP che è l'Unione Italiana Sport per Tutti lo sport come elemento per colmare il gap che rende tante persone più fragili e più vulnerabili. Comincerei proprio da lei, poi passiamo a Vincenzo Curatola, per chiederle appunto come si riesce a fare del vostro lavoro, del vostro discorso, quello che si farà qui in queste giornate una chiave rivolta, si diceva Curatola poco fa, siamo in emergenza, la casa sta bruciando la solidarietà e l'impegno sono l'unica chiave per tutti. Ma io direi che semplicemente noi siamo un pezzettino di un mondo vastissimo della solidarietà e della cooperazione e di questo mondo del volontariato più in generale. Ognuno fa un po' la sua parte, si assume in qualche modo una responsabilità di cura del mondo che ci circonda. Naturalmente non solo il mondo che ci circonda in Italia ma il mondo che ci circonda anche in tutto il pianeta perché per noi la nostra casa che brucia appunto è tutto il pianeta. Noi con lo sport lo facciamo in Libano come lo facciamo nelle periferie e nelle città e nelle campagne, ovunque sia perché pensiamo appunto che sia importante lavorare per offrire appunto a tutti e indistintamente la possibilità di essere partecipi in questa società e di avere riconosciuti i propri diritti. Io farei proprio un piccolo connessione. Oggi viene il Presidente della Repubblica, io ma come tanti altri anche Vincenzo e altri da quando avevo 16 anni ho raccolto le firme per la liberazione di Mandela. Uno dice che serve il volontariato? Serve perché noi abbiamo creduto a questa utopia, al fatto che lui potesse essere liberato e non solo è stato liberato, è finito l'apartheid ed è addirittura diventato Presidente della Repubblica. Quindi è possibile, lavorare con il volontariato vuol dire riuscire a cambiare il mondo. Io chiedo Vincenzo Curatola perché stiamo davvero per chiudere. Se ha la pazienza di rimanere altri 7-8 minuti con noi perché riapriamo in uno spazio che noi chiamiamo appunto la nostra piazza e la sua voce credo sia importante. E ne approfitto allora per fare un'ultima domanda a Raffaella Chiodo in chiusura. Se il fenomeno dello sport per tutti nella sua percezione, sì siamo abituati a vedere molte più persone, le Paralimpiadi, faccio l'esempio più banale, è cresciuto davvero nella percezione delle persone come uno sport degno di questo nome, un sport a tutti gli effetti, che piace, che appassiona. Noi siamo l'espressione di un mondo che pensa che lo sport è un'attività che deve far stare bene le persone. E naturalmente non solo sul piano fisico e nemmeno soltanto per le competizioni che sono del tutto bellissime, non c'è niente di male, ma noi siamo per un'idea di sport che è quella straordinaria forma di relazione fra le persone che di qualunque tipo, di qualunque identità e di qualunque carattere riescono a comunicare fra loro. Lo sport può essere, lo sport per tutti, quello strumento che permette appunto di entrare in relazione. Grazie davvero Raffaella Chiodo. Noi stiamo per lasciare la linea al GR3, ma torniamo tra pochissimo per la nostra piazza, molto speciale quest'oggi, dalla Fiera di Padova, capitale europea del volontariato. Rimanete con noi a tra poco. Rimanete con noi a tra poco.